Chi è? Come fa un cadavere a ridursi in questo modo così velocemente? È riconoscibile! Credo di essere stata rapita Ieri è stata ritrovata in stato confusionale vicino a una chiesetta nelle campagne La riconosce? Sì, è lei Si chiama Vittoria Vittoria? Ti presento Anna Persi, quella ragazza di cui ti ho parlato Hai se qualcosa in merito al punto di questa notte al cimitero? Il suo commissario se ne è perso un altro Torna in città e cerchi un messaggio Un'infanticida giustiziata allo stesso anno in cui sono morte Vittoria Clementi e Luigia Bacchi Ma l'abbiamo visto tutti ai mariconi con in braccio il bambino morto? Ancora quei bigliettini di cui ci parlava? No, me li hanno rubati ieri sera mentre cantavo in un locale Erano nella mia borsetta insieme alla scatola gialla Possiedi ancora un oggetto che ti è stato lasciato Torna a casa e non fartelo portare via Portalo sempre con te e non ti accadrà nulla Ma il corpo venne rubato quella notte stessa all'obitorio Anche il corpo di una cameriera fu rubato due notti fa al cimitero Perché rubare il suo cadavere? Perché? Non ti accadrà nulla Grazie a tutti